Nella casa del grande fratello Elena Prestes è entrata da soli due giorni, ma ha già fatto una richiesta che per molti è stata ritenuta assurda. Il reality show è tra l'altro iniziato da meno di sette giorni, ma la ragazza ha già fatto una dichiarazione molto particolare, che non ha trovato alcun consenso nei telespettatori che stavano seguendo la diretta 24 ore su 24. Infatti, c'è chi ha udito qualcosa di incredibile al grande fratello e non sono mancati nemmeno degli insulti verso Elena Prestes. L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi si è lasciata sfuggire una frase che non è piaciuta a molti. Andiamo a vedere insieme cosa è stato affermato dalla giovane Geffina nelle ultime ore. Nonostante il suo arrivo al grande fratello si sia verificato appena 48 ore fa, Elena Prestes ha invitato qualcuno a farle una cosa importante per darle il giusto supporto. Un'affermazione che ha lasciato di stucco il pubblico da casa, che ha riversato tutto il suo disappunto in particolare sul Social Network X. E vedremo cosa succederà davvero nei prossimi giorni. Il primo utente ha subito riportato sul social, non è passata neanche una settimana e Elena, entrata due giorni fa, e va già chiedendo aerei. Surreality. Poi c'è chi ha confermato questa notizia, aggiungendo pure un'offesa alla concorrente, quella stron di Elena vuole già un aereo. Una richiesta per molti prematura e insensata. Capiremo tra non molto, però, se i fan di Elena la contenteranno davvero oppure se per il primo aereo dedicato a lei dovrà necessariamente attendere più tempo.